Francesco mi chiede che cos'è l'anima. Cos'è l'anima? Cos'è? Si mangia? S'annusa? Non c'è allora, non c'è. Così ragiona la scienza. La scienza dice non l'annuso, non la sento neanche, non c'è, non c'è, non la vedo, quindi non c'è. La verità è che tu sei una cipolla e tu vedi solo la parte esterna della cipolla, ma in realtà hai tanti strati. Tra l'altro il creatore ha fatto l'universo, l'ha fatta da Dio proprio sta roba. Da Dio l'ha fatta. Molti sono tosti, la capa tostatin. Per farti capire che non sei il tuo corpo, cosa fa? Lo continua a cambiare. Dice no ma io sono il mio corpo. Sì però quando avevi due anni sei diverso da come sarebbe, c'è la barba. Io non sono nato con la barba, se no la mamma si sarebbe spaventato. Cos'è sta scimmia? Ho fatto una scimmia. Quindi ti cambia il corpo. Va bene, in questo strato c'è il corpo. Poi cosa ci sono? I pensieri. Li vedi i pensieri? No però li senti. ma se li senti. Quindi la mente è la gay. Ci sono le emozioni. Ok. Qualcuno li distacca dai pensieri però rientrano in quella roba lì. E poi c'è l'anima. Quella roba che tu sai che c'è. Quando ho vissuto la mia prima esperienza out of the body, fuori dal corpo, la mia anima ha deciso di uscire dal corpo. Ero lì che guardavo il corpo e dico tocca rientrare. Mamma mia però che roba. Perché il corpo nella sua forma vive la sofferenza. Puoi superare la sofferenza nell'accettazione entrando nella quarta dimensione. Vabbè, va a essere un altro discorso. L'anima è il tuo vero sé. È il tuo piede. che è andato in un negozio di scarpe e ha scelto una scarpa. Tu sei la scarpa? No, sei il piede. Questa è la tua anima. Il piede. Puzzolente, grande, grosso, piccolo. Sei il piede. Sei quell'essenza. Qui la chiamano la cispa divina. È quella goccia che viaggia nell'universo, nei multiversi. E ha deciso in questo momento di scegliere sta scarpa, sto corpo. Il gioco è rendersi conto di essere quella cispa divina, quella fiammella divina, l'anima. che osserva, che sperimenta questo viaggio. L'anima è colei, colui che ha deciso di fare un viaggio premio sulla Terra. Ha detto, dove andiamo in vacanza a sto giro? Pianeta Terra. Perché? Perché ci sono i fiumi, ci sono le montagne, le nuvole, i fiori, gli uccellini. Hai hai ragione, andiamo sul pianeta Terra. E così ha deciso di venire in vacanza qua. E sul pianeta Terra c'è il gioco Ricordati chi sei Trova il tuo centro Trova l'equilibrio Ricordati Ricordati Quindi oltre ad essere venuto a fare un viaggio premio qui sulla Terra, sei venuto anche per risolvere questo grande Rebus Entrare in connessione profonda con la tua vera essenza Come? Aiutiamo le persone a entrare in connessione profonda con la loro vera essenza durante le cerimonie di The Answer Le aiutiamo a ricordarsi A entrare in connessione profonda dentro A entrare in connessione profonda con la tua vera essenza A entrare in connessione profonda con la tua vera essenza A entrare in connessione profonda con la tua vera essenza